Buongiorno a tutti e ciao Mario. Meteo fino il 20 di giugno. Martedì domani rovesce temporale ovunque tranne nel nord ovest. Mercoledì temporale ovunque, giovedì temporale al nord e nelle regioni adriatiche. Venerdì migliora con temperature tra 26 e 30 gradi. Cosa ci dici poi? Elisa hai descritto un quadro preoccupante e vi dirò purtroppo fino al 20 di giugno andremo avanti così. Tant'è che dicevo prima scherzossamente a Elisa, ma il Padre Eterno si pensa alla fine che bolletta dell'acqua gli arriverà se va avanti così. Scusate se la metto su ridere, però in effetti è preoccupante perché poi sabato peggiorerà di nuovo al centro nord e poi un'altra intensa perturbazione. Domenica rovesce temporale su tutta l'Italia per questa intensa perturbazione che insisterà ancora lunedì prossimo con rovesce temporale su tutta l'Italia e così via. E andremo avanti con questa musica purtroppo stonata fino al 20 di giugno almeno. Almeno? Almeno. Vi ricordate che l'avevamo già detto all'inizio di giugno? No? D'accordo. E così è se vi pare, disse il Pirandello. Va bene, grazie. 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 Grazie.